Il partito comunista riparte dalla Toscana e lo fa con una doppia candidatura, quella di Alessandro Massimo Facchinetti alla poltrona di sindaco di Arezzo e quella di Salvatore Catello invece a governatore della Regione. A lanciare la campagna elettorale è stato il leader nazionale del partito della Falce e Martello. Torna la Falce e Martello, torna per ribadire i temi del lavoro. Oggi i temi del lavoro sono fondamentali e invece vengono esclusi. Vengono esclusi da ogni parte, si parla di consumo, si parla di diritti civili, non si parla mai dei diritti dei lavoratori. Ed è per questo che noi lanciamo una grande alleanza sociale, un'alleanza tra la classe operaia e i lavoratori, chi vive del proprio lavoro e il ceto medio che si sta proletarizzando e sta precipitando verso il basso, artigiani, commercianti, piccole intraprese che vedono precipitare la loro condizione. Un grande blocco sociale fatto da chi vive del proprio lavoro. Questa è la proposta del Partito Comunista. L'aspirante sindaco del Partito Comunista per Arezzo è dunque Alessandro Massimo Facchinetti, dipendente Telecom e segretario comunale del Partito. È sicuramente un momento importante che segna appunto qual è la rilevanza che come Partito Comunista diamo alle elezioni. Per noi le elezioni sono un momento importante, ma non quanto fine, ma quanto mezzo. È un momento determinante per far conoscere le nostre idee, le nostre istanze, per farci conoscere. Noi lavoriamo costantemente all'interno del territorio aretino, quindi facciamo iniziative e quant'altro. Però è innegabile che sotto un periodo elettorale il messaggio sia molto più capillare, molto più rapido per arrivare.